... Sono a Ferentino in provincia di Frosinone, qui davanti a me la Valle del Sacco, ma Ferentino si caratterizza anche dal centro storico perfettamente conservato e dall'artigianato, che è tutto da scoprire. Siamo davanti a una delle sette porte di Ferentino, la Porta Sanguinaria, ma perché questo nome? Sanguinaria perché, come dice lo storico Livio, qui nella Valle ci fu una grande battaglia tra Annibale e Romani e le mura si tinsero di sangue per la grande strage. È molto ben conservata? Sì, nel circuito murario della città di Ferentino si aprono ben sette porte, tutte ben conservate e percorribili, perché sono le porte di accesso alla città. Questa è una chiesa gotico-cistercense e ha delle particolarità. Sì, è la chiesa dedicata alla Madonna Assunta in Cielo, infatti si chiama Santa Maria Maggiore. Maggiore perché è la più grande chiesa di Ferentino e ha origini antichissime. Dagli scavi archeologici è risultato che nelle fondazioni ci sono reperti che risalgono a due precedenti chiese, in particolare la più antica del V-VII secolo d.C. e quindi noi possiamo dichiarare tranquillamente che è la più antica chiesa di Ferentino. L'attuale edificio risale al 1250, diciamo al XIII secolo. C'è una maestranza cistercense che ha lavorato per conto del comune medievale e ha edificato nel territorio urbano una chiesa gotico-cistercense, tradendo un po' i canoni dell'architettura cistercense che edificava abbazie extraurbane. E quando a Ferentino parliamo di artigianato non si può non parlare dell'argilla. E qui siamo in un'azienda del 1700. L'argilla come vedi è molto sottile, viene ricavata dal terreno qui in zona e impastata semplicemente con acqua. Quando ha la durezza giusta può essere lavorata con appositi stampi. Ce ne sono di vari tipi, di metallo, di gesso, di legno. Ecco, che prodotto esce dall'argilla? Possiamo fondamentalmente produrre qualsiasi oggetto, sia mattoni, vasellame, sculture e così via. Tutte le materie prime sono presenti sui terreni aziendali. Sia i vari tipi di argilla, sia l'acqua nel laghetto che è qui sotto, sia il legname che utilizziamo poi per cuocere i mattoni che è preso dai boschi nostri qui di fronte. E qui abbiamo la fase della cottura, fondamentale ovviamente. Quanto dura? Si cuoce per quattro giorni e tre notti. L'ultima notte si alza il fuoco altissimo fino a 1150 gradi. Il mattone poi da fragilissimo che è appena secco diventa quello duro che vedremo poi fuori. Qui stiamo infornando i mattoni. Il mattone viene incastrato uno con l'altro in vari piani, in delle tessiture. Poi la fornace viene tutta murata e si accende il fuoco sotto con tronchi di legna interi. E questo è il prodotto finale, che è un prodotto che deriva da una tecnica che proviene da secoli. La stessa tecnica dei romani. E questo è il motivo per cui i mattoni hanno la stessa bellezza e soprattutto la stessa resistenza e durata. E quindi con una concezione del passato che persiste nel presente e nel futuro, da Ferentino io vi saluto.